Ciao raga, bentornati sul mio canale youtube, finalmente è arrivato il tutorial tanto atteso, il tutorial sul tunnel direzionale una delle skill migliori secondo me al momento dopo la patch, è stata un po' ribattezzata come il nuovo doppio passo secondo me in maniera un po' errata, perchè insomma l'utilità del doppio passo era quella di una skill che praticamente ti permetteva di tagliare immediatamente dentro l'aria attraverso questa skill riusciamo un pochino a sortire lo stesso effetto ma comunque perdendo per un secondo il controllo del pallone diciamo che non si ha quella stessa efficacia però può essere un ottimo modo per cercare di bucare le difese avversarie quindi cosa andiamo a fare? Vi porto in arena per andare a vedere come questa skill si performa e poi ho registrato alcune clip che vi fanno vedere nel pratico quali sono le situazioni migliori dove andare a utilizzare il tunnel direzionale quindi senza perderci ulteriormente in chiacchiere eccoci qua che passiamo rapidamente in arena e come potete vedere mi trovo col mio bel CR7 e questa skill è molto molto facile avete presente il Driven Shot? Credo di sì, insomma una skill che, un tiro che su FIFA 18 insomma era il modo migliore per finalizzare da FIFA 19 in poi il Driven Shot ha cambiato faccia, difatti si faceva schiacciando L1 e R2 dico L1 ed R2 perché mi faccio riferimento a quelli che sono i tasti base di FIFA però identificate R2 come il tasto del tiro a giro quindi in base a come correte può essere L1 più R2 quindi per poter fare il tunnel direzionale non bisogna altro che fare praticamente un Driven Shot senza calciare quindi voi mentre state correndo schiacciate L1 poi schiacciate R2 come nel mio caso e vi buttate la palla con l'analogico nella direzione desiderata vedete potete farlo in questo modo, potete farlo in quest'altro modo, potete farlo laterale, potete farlo così, potete farlo di dietro potete farlo veramente in tutte le direzioni del campo molto molto utile, devo dire la verità perché vi permette di prendere velocità è diciamo una via di mezzo tra un Bridge e un doppio passo in obliquo di fatti abbiamo visto anche che con la nuova patch insomma il Bridge spiccherà abbastanza il volo visto che i difensori giustamente non andranno più a paralizzarsi quando farete un Bridge quindi risulterà più difendibile, questa qui secondo me è molto più interessante perché vedete per fare il Bridge il giocatore butta tanto la palla in avanti cosa che invece non succede con quest'altra skill vedete mentre tenete palla si allarga la palla in maniera molto più rapida recuperandone subito il controllo del pallone quindi molto molto semplice raga L1 più R1 barra R2 a seconda di come correte e l'analogico destro nella direzione desiderata diciamo che a seconda delle varie direzioni è chiaro che questa skill risulta più o meno utile in particolare io sono andato a identificare quella che è la situazione più utile e vi faccio vedere perché per me è la più utile quindi stacchiamoci un attimino dall'arena e passiamo sul PC dove appunto ho preparato queste clip per voi ce le andiamo subito a vedere vedete anche che ho la solita penna tecnico-tattica per evidenziarvi determinate cose guardiamo il primo replay qui gestione della palla tra l'altro ci tengo a precisare che queste azioni sono state registrate da un mio ragazzo del coaching che ha masterato questa cosa quindi subito ha seguito questa indicazione devo dire che i risultati li vedrete qui palla che viene scaricata dentro verso un bappé e guardate qui l'avete visto il movimento con il tunnel direzionale? questa qui secondo me è la situazione ideale ossia quando più o meno avete il difensore posto al vostro interno quindi solitamente a destra e ponete l'analogico in obliquo quindi cercate di andare ad aggredire questa porzione di campo nonostante voi avete il vostro giocatore che è direzionato dritto però andando a buttare così il pallone cambiate repentinamente direzione quindi questa cosa qua vi fa capire immediatamente come sia anche più utile del bridge perché se avessimo performato un bridge cambio colore per dirvi il bridge potete farlo solamente davanti a voi quindi sì avreste preso più o meno questa porzione di campo ma magari il giocatore avrebbe continuato a rincorvervi e si sarebbe posto sulla vostra linea di corsa ok? per quanto riguarda invece quest'altra skill come abbiamo visto guardate qua come il giocatore si butta palla in obliquo saltando l'avversario e trovandosi immediatamente nella posizione per calciare quindi tra i diversi utilizzi che vi ho fatto vedere secondo me questo qui con il difensore al vostro interno per boostare in obliquo è la soluzione migliore andiamo avanti perché le clip che ho registrato sono diverse per farvi vedere come venga ripetuta questa cosa e come sia davvero utile ancora una volta qui con Neymar stesso movimento in questo caso come potete osservare il giocatore è all'esterno di Neymar il marcatore diretto vedete? in questo caso è all'esterno però anche quando è all'esterno se il nostro scopo è quello di andare a tagliare rapidamente in questa porzione di campo ci sta perché qui qualora non aveste fatto questa skill il suo Varan il suo Akanji avrebbe potuto andarvi a chiudere sul vostro Neymar invece qua con la skill appena vedete lui riceve il pallone prende questo boost in rapidità aggredisce questa porzione di campo e come vi farò vedere poi va a concludere a rete con successo quindi guardate sul primo controllo come ha mandato al bar Akanji che si vede proprio ragazzi fa un movimento in cui scivola perché non se l'aspetta è troppo repentino e veloce il cambio di direzione guardate oltre che la palla non va così lontana dai piedi del giocatore che sta attaccando come nel bridge quindi ha subito disponibilità di recuperare il pallone Neymar finta di tiro e va a calciare andiamo avanti ancora un'altra situazione di gioco qui in questo caso palla dalla fascia con Deulofeu Mbappé in questo caso vedete come piazza nuovamente all'esterno quindi alla sua destra il suo diretto marcatore che in questo caso è Varan cosa andate a fare voi con il tunnel direzionale in questa direzione in obliquo vi andate immediatamente a porre nella condizione di poter aggredire questa porzione di campo e andare a calciare in maniera molto rapida perché qua cosa avreste potuto fare un drag back si un scoop turno volevo dire si ma non è così repentino e magari il difensore sarebbe voluto essere vicino un tacco tacco si ma ancora una volta il movimento non è così ampio invece guardate qui ancora una volta bellissimo il tunnel direzionale palla che viene buttata verso il largo e Bappé si costruisce lo spazio subito per la conclusione a incrociare che trova il miracolo del portiere e però con la ribattuta arriva la rete del 4 a 2 quindi insomma avete visto come il vantaggio di utilizzare questa skill in quella specifico insomma in quella specifica situazione di gioco porti a dei grossi risultati ancora una volta vi ho registrato quella che credo sia l'ultima clip guardate ancora una volta qui palla con Mbappé che riceve al limite dell'aria con Varane che ancora una volta vedete si trova rispetto a Mbappé nella sua posizione interna eccolo qua quindi palla buttata in obliquo ancora una volta Mbappé che si ritroverà qui pronto a calciare vi è lo spoiler ve lo faccio vedere guardate lì boom palla per il gol di Mbappé quindi questa è la situazione diciamo principe nella quale potete andare a utilizzare il tunnel direzionale quindi sia quando avete il giocatore al vostro interno sia quando volete avere il giocatore al vostro esterno ma per andare repentinamente a utilizzare il boost in obliquo quindi non andrei a utilizzare il tunnel direzionale laterale all'indietro eccetera eccetera quello che è il più efficace in assoluto è questo qua vedete fa proprio un tipo di animazione differente molto più rapido con la palla che cambia direzione nel giocatore spesso e volentieri si ritrova in condizioni di poter calciare immediatamente in porta quindi raga per questo video è tutto spero di essere stato abbastanza esaustivo prendetelo un po' come la la guida definitiva al tunnel direzionale mi ero anche guardato un po' in giro non ce ne sono tanti di video sul tunnel direzionale e quelli che ci sono ce ne sono davvero pochi che durano pochi minuti senza esempi di gameplay veri e propri quindi ci tenevo a farvi uscire questo video è ritardato un po' perché ho raccolto il materiale e nulla raga quindi fatemi sapere che ne pensate di questa skill fatemi sapere se già l'avete utilizzata e imparata a masterare vi ricordo di commentare il video mettere un bel like iscrivervi al canale perché stiamo andando una bomba e mi fa super piacere in descrizione trovate tutte le info per le live sulla piattaforma viola domani arriva finalmente il video del play like a pro sulle tattiche la bibbia del 532 di diul e mike e nulla ragazzi a me non resta altro che salutarvi vi auguro una buona giornata ciao 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 ciao